Ciao Valerio, l'estate che stiamo vivendo è veramente un'estate difficile, un'estate anomala dal punto di vista meteorologico, ma c'entra qualcosa a tutto ciò con lo scevimento degli acciai? Ma diciamo che questi sono eventi correlati, ci sono i colleghi meteorologi e climatologi che ci spiegano che tutti quanti gli eventi che stiamo osservando in questo periodo, soprattutto nell'ultimo anno, abbiamo visto che c'è stata una tempesta tropicale a New York, c'è stata una tromba d'aria ad Oklahoma City, qui da noi c'è stata una primavera molto fredda, tanto che al nord hanno dovuto riaccendere i riscaldamenti quando ormai era quasi estate E adesso, ne abbiamo parlato la volta scorsa, queste tempeste che si scatenano e si esauriscono in pochissime ore, le flash storm che hai nominato l'altra volta, beh, questi sono tutti quanti eventi correlati ad un'origine comune, che sono appunto i cambiamenti climatici Il surriscaldamento del clima comporta degli effetti che possono essere o diretti o indiretti e uno degli effetti diretti è quello dello scioglimento dei ghiacci Naturalmente, se si surriscalda il pianeta, il ghiaccio che spontaneamente sarebbe un elemento per calmierare, per così dire, il clima, perché noi sappiamo che il ghiaccio, ecco, lì abbiamo messo un contenitore proprio che evoca la presenza dei ghiacci nell'acqua Il ghiaccio ha la caratteristica tale che finché il ghiaccio è solido la temperatura non cambia, quando il ghiaccio fonde tutto quanto, allora la temperatura dell'acqua in cui il ghiaccio è immerso può innalzarsi Ecco, tra l'altro circa tre settimane fa un satellite ha proprio immortalato, quindi il distacco, da un ghiacciaio proprio in Antartide Esattamente Che era un gigantesco iceberg, pensate, dall'estensione di 720 km2, che insomma comprende tutta la città di Roma, di Napoli, di Firenze, insomma, di Genova, di Bologna, messe insieme, perché è enorme, un'enormità È un'enormità, effettivamente, non è un fenomeno isolato perché capitano distacchi di grandi iceberg, ma la cosa un po' singolare è il fatto che si sia distaccato in inverno Perché stiamo parlando dell'Antartide, qua ci possiamo avvicinare, noi siamo in questo emisfero, si può vedere la posizione dell'Italia Nel nostro emisfero c'è il polo nord, dalla parte opposta, lo metto a favore di telecamera, c'è l'Antartide, il polo sud Siccome da noi è estate, di là è inverno, oltretutto essendo proprio in corrispondenza del polo sud, in questo momento è buio lì, non c'è luce E quindi è una cosa un po' anomala, anche se sono eventi che richiedono parecchio tempo per consumarsi La frattura si è praticata nel corso degli anni, addirittura, non dei mesi, però è singolare che si distacchi in questo periodo E la spiegazione però l'hanno data, c'è un istituto tedesco intitolato ad Alfred Wegener che ha stabilito, l'istituto si occupa proprio di climatologia E di vedere quali sono le evoluzioni nel polo nord e nel polo sud, tra le altre cose, che è probabilmente dovuto al cambiamento delle correnti oceaniche Cioè c'è una corrente calda che si è insinuata sotto la calotta polare e ha provocato il distacco Ma l'istituto dei ghiacci può provocare quindi l'innazzamento dei mari? E questo qui è l'esperimento che ho preparato per oggi Allora, iniziamo a mettere dell'acqua che ho opportunamente colorato per renderla più visibile Fino al segno, attenzione, ecco qua, approssimativamente che ho fatto qui davanti Se vedete c'è del nastro adesivo che segna il livello dell'acqua Allora, io inizio ad accendere il fornello che è al di sotto per simulare il riscaldamento E metto dei pezzi di ghiaccio all'interno Allora, quello che si può vedere è che il livello dell'acqua si innalza Sì Allora, il livello dell'acqua si innalza ovviamente perché ho introdotto dei solidi all'interno del contenitore La cosa che vedremo, adesso lasciamo riscaldare il sistema Tenete a mente qual è il nuovo livello a cui siamo arrivati che posso magari evidenziare Quindi è più alto rispetto comunque alla traccia che avevi fatto E adesso metto un altro pezzo di nastro adesivo E questo è il livello con i pezzi di ghiaccio all'interno Allora, qual è il concetto che solitamente si pensa che sia lo scioglimento degli iceberg A provocare l'innalzamento del livello dei mari? In realtà non è così Perché quando un iceberg si scioglie Diciamo probabilmente fonde Come dicono i fisici Che cosa succede? Cioè il livello dell'acqua rimane alterato? Perché la quantità di acqua Diciamo il buco che aveva prodotto all'interno dell'acqua Viene riempito proprio esattamente dalla quantità di acqua Che è prodotta dallo scioglimento dell'iceberg stesso Quindi, attenzione Non è nel momento in cui si scioglie l'iceberg Che si produce il problema Ma nel momento in cui l'iceberg si crea O meglio che i ghiacciai della terraferma Che quindi non stanno nell'acqua Pian piano, a causa del suo riscaldamento del clima Scivolano nell'oceano A quel punto, quando il ghiaccio arriva nell'oceano È già troppo tardi Il livello si è già innalzato E questo lo potremo notare poi alla fine Ecco, ma con lo scioglimento comunque Ci sono anche i ghiacci che si producono direttamente in mare E quei ghiacci marini hanno una loro funzione È uno strato molto più sottile dei ghiacci terrestri Ma ha la funzione sia, essendo bianco, di riflettere la luce del sole Quindi di regolare la temperatura Sia di isolare l'oceano dall'esterno Perché sappiamo che il ghiaccio è isolante E infatti gli igloo sono fatti di ghiaccio Ma cosa possiamo fare per salvare il nostro pianeta? Possiamo continuare a fare quello che stiamo facendo fino adesso Intanto voglio far notare che nonostante l'acqua si stia scaldando Il livello non è mutato E quindi che l'allarme è questo Evitiamo lo scioglimento dei ghiacci Riducendo le emissioni dei cosiddetti gas a serra Che alterano il clima Questa è l'unica ricetta I gas a serra sono quelli più pericolosi Che stanno rovinando il nostro pianeta E di conseguenza anche noi Per quanto riguarda il surriscaldamento, sì Grazie mille allora Valerio Rossi Albertini E adesso è arrivato invece il momento di spettacolare sulla letteratura